Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli, vediamo la situazione del traffico della mobilità in Toscana in questi minuti. In A1 rallentamenti per lavori verso Nord tra Val di Chiana e Monte San Savino, in A11 per traffico code a tratti tra Pistoia e Bivio con la A1 e tra Bivio a 11 Firenze Nord e Firenze per Etola, il tutto verso Firenze. Ci spostiamo in Fipili per traffico, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze e Scandicci in carreggiata opposta, coda tra Scandicci e la Strassigna. Siamo al traffico urbano di Firenze, a partire da questa sera lunedì 4 marzo, la T1 della tramvia sarà parzialmente interrotta in orale notturno dalle 23 fino a mezzanotte e mezzo per i lavori della nuova linea San Marco. Lo stop si effettua da lunedì al giovedì per circa un mese. Saranno attivati i bus sostitutivi, tutti i dettagli sui nostri canali social. Buonasera di Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.